e buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video siamo sul caso di block ops 3 qui è faggi che vi parla sulla modalità zombie siamo sulla mappa the giant andrò a provare la first room come potete vedere sto giocando il locale perché sto avendo problemi di connessione ultimamente come avete visto anche dalla live e niente abbiamo da volgamo messo quelle però tanto non servono il first room ciò che poi è molto ampia quella di the giant di first room per questo ha scelto questa mappa intanto sentiamoci il trailer non è divertente sai voltati lentamente ok skipiamo il video se no mezz'ora ok ok dai intanto che sponano i zombie circa di saltare da qui sulle scale no c'è un modo per saltare tipo proprio non preciso punto aspetta no vabbè comodiamo punti anche se non serve accumulare punti perché prima stanza il giusto shayva rk5 si possono comprare quindi tanto munizioni così dove è eccolo ok 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 pieno carico allora dai su su allora mettiamoci un obiettivo almeno round dai round 10 sì dai round 10 ok cosa dice quella zona lì ampissima proprio il problema è che i zombie arrivano dalla sopra quindi se non ci fosse stato quello spawn sarebbe stata una zona perfetta ok ora prendiamo lissa anche il dai vediamo ok coltelliamo ora c'è instant ok ok ci stavamo già chiedendo subito proprio così ok 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 so che bisogna comprare inizio a comprare shayva rk5 ok ok facciamo rispawnare poi prendiamo la bomba sto sparando ok ma ricarichiamo vabbè sono sti cavoli di ricaricare prendiamo rk5 e shayva iniziamo a raggrupparli ok ma ancora non corro non più di tanto ok 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 tanto c'è mi sta tirando tipo certe mini laggate ok anche se sto in locale anche se sto in locale ora qualcuno dietro sicuramente no qui ok 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 allora andiamo così a passo ok perfetto oddio ora mi chiudo come sono passato no 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 non ci credo eh comunque 10 era molto alto come obiettivo la credo più facile però i zombie sono tanti qua senza gabbo gamarmi non potenziate vabbè niente ragazzi a proposito ve lo dico inviatemi le vostre clip di magari reanimazioni fighe che so fail oppure armi forti che hai trovato dalla cassa magari qualcuno che è fortunato qualcuno che è sfortunato non so inviatemi le vostre clip e farò una top 5 una top 10 vedremo beh dopo questo saluto a tutti ciao